Benvenuti nel mondo degli orologi De Betun. De Betun è un produttore di orologi svizzero indipendente situato all'Auberson, in Svizzera. Dalla sua fondazione, De Betun ha sviluppato non meno di 30 calibri, presentato circa 30 anteprime mondiali e registrato un gran numero di brevetti oltre a produrre 150 pezzi unici. Gli orologi De Betun sono realizzati a mano e rappresentano l'eccellenza dell'orologeria svizzera. De Betun ha ricevuto i più alti riconoscimenti assegnati dall'industria orologera di tutto il mondo, tra cui, e di Idor, Grand Prix per il miglior orologio dell'anno. Questi premi attestano la maestria artigianale e tecnica del marchio, che continua a innovare ed evolversi nel settore dell'orologeria di lusso. Oggi, Denis Flageollet, cofondatore del marchio e maestro orologiaio, insieme al CEO Pierre Jacques, guidano il futuro dell'azienda. Gli orologi De Betun sono apprezzati per la loro straordinaria precisione, la loro bellezza estetica e il loro design innovativo. Ogni pezzo è creato con grande attenzione ai dettagli, usando solo i materiali più pregiati e le tecnologie più avanzate. Il marchio offre una vasta gamma di orologi, tra cui il famoso di B-28, un orologio dall'estetica pulita e minimalista con un design innovativo e una tecnologia all'avanguardia. L'orologio è caratterizzato da una cassa in titanio sferica, un quadrante in smalto gran feu blu e una lancetta dei secondi a forma di serpente. Altri orologi De Betun degni di nota includono il di B-25 Sterri Varius, un orologio da polso con una cassa in oro rosa e un quadrante in smalto gran feu blu con stelle in oro bianco, e il di B-27 Titan Hawk, un orologio sportivo con una cassa in titanio e un quadrante in acciaio inossidabile. In conclusione, De Betun è un marchio di orologi svizzero indipendente che si dedica alla ricerca e allo sviluppo di innovazioni tecniche ed estetiche nel campo dell'orologeria. La manifattura produce tutti i suoi orologi internamente e ogni pezzo è progettato individualmente e realizzato con grande attenzione ai dettagli. Grazie alla sua dedizione alla qualità e alla sua continua ricerca dell'eccellenza, De Betun ha ottenuto i più alti riconoscimenti nell'industria orologera e continua a essere uno dei marchi più prestigiosi al mondo.